il signor romolo giovagnoli ci deve accompagnare perché avete bucato giovagnoli si è fottuto zingoni ma scusi io sono un feroce rapinatore questa è una rapina aiuto adesso chiama i gherbinieri ecco brava ma quello lì ma che è muto no 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 è psicopatico ah un pazzo omicida ma ha preso un colpo io sono l'avvocato romolo giovagnolo si bucato disturbo ma l'amante tua come la buona valeria è una bomba sexy mia moglie per vendicarsi è andata dal magistrato gli ha raccontato tutto quello che sapeva sui miei affari leciti ma ma no ma vuoi finito sta cannuccia che fanno organizziamo una partitella che dite raga se le bolle ma tanti sei risultato sta maglietta non bastava la galera pure l'evasione ci voleva ma quello è il problema troviamo un telefono chiamami i carabinieri e ci facciamo riporta a caccia se la gente ci conoscesse meglio capirebbe quanto siamo buoni profondi sensibili quanto è bello qua ma guarda che c'è lo bello e soprattutto due persone serie